E' iniziata con la sua prima edizione Gran Sasso Live Montoro e Alvomano, la Porta del Parco, una grande manifestazione di musica, teatro e solidarietà che animerà l'estate di Montoro e tutta l'area interna del Terramano. Più di 30 eventi nell'arco di un mese e mezzo con concerti, spettacoli teatrali con artisti di livello nazionale che si alterneranno a serate a cura delle associazioni del territorio. Una kermesse organizzata dal comune con il patrocinio del Parco Nazionale del Gran Sasso, Monti della Laga e dalla provincia di Terramo. Un rilancio di tutta la città che è partita dalla nostra elezione, un grandissimo entusiasmo, tante persone che hanno voluto darci una mano, una kermesse che ha un sold out in tutti i biglietti e siamo sullo sfondo di un partito montoriese che vuole far apparire il comune di Montorio come governato da poco di buono. Il processo che mi riguarda finirà in bene, sono sicuro che non uscirò sul traffico di influenze pulito, ma questo ci fa capire di dove era arrivata Montorio e che forse si era creato un sistema per abbattere Montorio. Nei prossimi 30 giorni stiamo studiando una serie di cose lasciate anche in comune e alle autorità competenti trasmetteremo tutto. Ho l'impressione, spero che non sia un potenziale reato questo della sede del PD, perché c'è anche il finanziamento illecito che va dichiarato. Non vorrei che la sede del PD fosse di qualche fornitore del comune di Montorio che ha preso quell'appalto senza appalto, cioè un incarico diretto. Quindi Montorio è una città di persone per bene dove l'invidia e la cattiveria che c'è stata negli ultimi anni che ha fatto fuggire migliaia di persone. Io faccio il sindaco a titolo gratuito col cuore perché voglio tornare a vivere qui ma in un paese migliore. Allora quando vedo che un omino che non ha fatto mai nulla per Montorio apre, in maniera, siamo in un paese libero, e vuole far apparire Montorio come in un paese governato da poco di buono, non va bene, ma non per me, a me mi fanno ridere queste cose, ma per la città. Perché quello che stiamo facendo è per i giovani, una generazione futura, che non vuole che Montorio muoia. E questa è la festa di tutti. Come vi sono considerato di tanti eventi, avete lavorato anche per rendere ancora più bella la città di Montorio, o ci sono delle illuminazioni particolari? Montorio ha un patrimonio importantissimo e noi lo dobbiamo valorizzare. Il colle, il lungo fiume, su cui ci saranno degli eventi, che ci abbiamo lavorato da mesi per la riqualificazione che è solo il primo tassello, e questa delle illuminazioni artistiche è un passaggio che fa ancora di più capire quanto è bella Montorio e in che stato di degrado era stata lasciata. Grazie.